cari amici come promesso oggi sono venuto all'istituto superiore di sanità per consegnare le vostre firme 22 mila firme contro il documento emanato dall'osservatorio di studi di genere nel quale viene consigliato ai ragazzi ai minorenni di rivolgersi alle associazioni lgbt l'istituto superiore di sanità ha rilasciato delle linee guida per il personale sanitario su come trattare i pazienti lgbt quello che ci preoccupa moltissimo è che all'interno di questo documento vengono invitati i minori con dubbi sulla loro sessualità e affettività a rivolgersi alle associazioni lgbt che non hanno nulla di medico e di scientifico ma sono completamente ideologizzate e politicizzate l'ideologia gender deve rimanere fuori dalla sanità pubblica ho appena consegnato le 22 mila firme al presidente dell'istituto superiore di sanità bell'antone il prossimo obiettivo è incontrare il ministro della salute se ancora non hai firmato la penizione fallo fuori il gender dalla sanità pubblica bell'antone il prossimo obiettivo superiore di sanità pubblica